Bella a tutti ragazzi, oggi siamo qui su GTA 5, resistenza 5 stelle Allora, vi avevamo promesso questo video praticamente due settimane fa Solo che ci sono stati dei problemi con l'audio Io avevo il file, non me lo apriva, tutti questi problemi Vabbè, queste cose le abbiamo già dette nel vlog Questo è un video di Red Smog Non puoi pensare che noi diciamo cazzo Diciamo sempre che ci sono dei problemi con queste cose Ci sono problemi Allora, che diciamo? Diciamo che in questo gameplay Eh, di cosa hai fatto in questo gameplay Allora, nella prima parte ho registrato e già stavo le 5 stelle Poi sono morto E poi sono arrivato quasi alle 5 Ah, per chi non l'avete capito ci sono io, quello chiamato Minecraft Ma in realtà sono XXL99XX su Minecraft Astoxx e Red Smog Red Smog e l'innominato Che mi sa che questo oggi vi diremo No, no, niente, no, no L'innominato rimane un mistero Oggi io e Dixis, ah, XS, vabbè avete capito, è lui Dovamo fare una lanza su Minecraft di sopravvivenza Solo che io non avendo Minecraft Cioè, ce l'avevo, l'ho disinstallato e tutte queste cose Non avendo Minecraft ho dovuto rinstallarlo Solo che il suo setup di merda non funzionava Cioè, è Java di merda Il tuo computer è di merda? No, è Java di merda Non funzionava Quindi non abbiamo potuto farlo Cioè, Red Smog che fa facce impropri Vabbè, ci parli un po' del suo gameplay Eh, ho già detto Prima sono andata alle 5 e poi alle 4 Adesso, aspetta, mi sai che qui C'era un bug Che tipo No, no Eh, vabbè, sono andata alle 5 E poi qui Con il cecchino stavo prendendo una stella Per non, per non andare troppo in là Mi sono un cecchino E Cioè, l'inominato che ci fa ridere Dice di stare zitti Però più ci fa ridere Più noi parleremo di lui Magari un giro diventerà nominato Tan 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 Allora, basta di rincazzare Un giorno di questi Faremo anche un gameplay di cazzotto Su GTA Sì E Ecco, se lo vedete qui c'è un furgone che vola L'avete visto? Eh, qui guarda No, no, adesso si è fermato Vabbè, poi Poi rivedendo il video Si vede Ehm, vabbè Alla prossimo video Un'altra parte Cioè, uno dei prossimi video Un'altra partita Nel due contro Quella di prima non era una partita E su FIFA 14 però stavolta Eh Che se l'ha comprato OLE E probabilmente Il prossimo video sarà una line di Minecraft Non so se Io contro Cioè, io con Con XXR Che non lo ho Ale O contro Contro Cioè, con È la seconda volta Che ho dito Il The Chicken Style Voleva dire qualcosa Io Ah Allora Ho provato a fare una line con Umberti Niao Non ci sono riuscito Ho provato a fare una line con Ehm The Chicken Style Non ci sono riuscito Ho indovinato Ho fatto una line con lui Non ci sono riuscito Sì Adesso sta a 4 stelle Azioni di Non da stelle L'Illuminato ride Non si sa perché Se avete visto il video di GTA L'abbiamo caricato Come guidava La sua guida Sì Avrete visto la sua guida Sì Bellissima Adesso vedrete Un gameplay di Di The Chicken Style Ma che di The Chicken Style Sì Sono GTA Ah Che vedrete come guida Riesce a prendere Ah io pensavo questo No 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 Questo è il smokey 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 Vabbè poi faremo anche Forte Zancudo Un giorno di questi Un giorno che non piove tanto Visto che abbiamo Occupazione Non abbiamo Un cazzo da fare È cosa più bella Dell'anno L'occupazione No ragazzi Dovreste inizionare a studiare Eh bambini Cacchino Me ne sbatto I cosiddetti Continuate su con me I pavesini Non potete capire voi Forse qualcuno potrebbe aver capito Va bene Adesso siamo alla fine del video E allora vabbè Vi salutiamo Questo era il video I prossimi video Ve li abbiamo già detti Bella 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 a tutti Ciao Ciao Ciao